Scusate, scusate, stiamo dando prova di cosa significa l'esercizio di democrazia sul tema di questo tipo. Chiederei a tutti di restare nel merito dell'oggetto della discussione, quindi il TAV, nel rispetto di tutti e di ascoltarci. A chi interviene è alla platea, chiederei a chi interviene di rimanere nel tema oggetto della mozione, quindi le motivazioni a favore e contraria all'opera. Le chiederei a tutti di ascoltare. Grazie. Prego consigliere, prosegua senza cortesia e insegnare gli amici personali di chi qui oggi chi no. Grazie.